Disclaimer, prima di passare al video volevo consigliarvi di restare sintonizzati fino alla fine del video stesso perché oltre allo show and tell di quello che vi mostrerò, ci sarà anche un bellissimo regalo per voi! Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale! Oggi video haul, ma un haul un po' diverso dal solito come sicuramente avrete capito perché si tratta di un haul che ho realizzato in collaborazione con Nijoli.fr un sito francese che mi ha contattata chiedendomi questa collaborazione Devo dire che appena ho sentito il sito francese mi sono illuminata d'immenso perché ho pensato subito a qualcosa del tipo il diavolo veste prada quindi qualcosa di lussuoso, di modaiolo, proprio nel tipico stile francese Sono andata quindi a dare un'occhiata al sito e devo dire che è un sito molto ordinato e variegato ordinato perché è davvero facile da scorrere, da visitare è diviso per categorie ed è molto variegato perché vende veramente una grande varietà di prodotti si va dalla nail art, quindi alla decorazione delle unghie, tutto il nécessaire per la decorazione delle unghie alla bigiotteria, piuttosto che alla piccola cancelleria, alle pucciosità e i prezzi sono veramente ottimi perché sono dei prezzi bassissimi con pochi euro vi portate a casa delle pucciosità veramente utili e sfiziose Ho quindi accettato di buon grado questa collaborazione e nel giro di un paio di settimane, forse anche di meno, diciamo una decina di giorni è arrivato il pacchettino Se mi seguite e se mi conoscete potrete intuire che sono per la maggiore prodotti di cancelleria, cartoleria e qualcosa che ha comunque a che fare con il mondo dei libri Sì, in realtà io ho sfogliato tutte le categorie del sito però che volete farci? La mia mente è proiettata lì Bando alle ciance, vi lascio allo show and tell e poi ci rivediamo qui subitissimo anche con la sorpresina per voi Sì, in realtà io ho sfogliato Sì, in realtà io ho sfogliato Sì, in realtà io ho sfogliato Io ho sfogliato Io ho sfogliato Io sono veramente innamorata di tutto Io sapevo che cosa mi sarebbe arrivato Perché sono cose che ho scelto io Però una cosa è vederle dal sito e una cosa è vederle dal vivo La qualità è veramente ottima Sono rimasta molto colpita positivamente E cioè vogliamo parlare di questi segnalibri Io non li avevo mai visti in giro Io non li avevo mai visti in giro ma veramente sono uno spettacolo Perché intanto sono di plastica dura Quindi sono molto resistenti e la qualità è ottima Ma poi voglio dire si chiamano help me perché resta questa manina al di fuori del libro che sembra che uno stia annegando fra le pagine E poi in realtà non è nemmeno così diverso dal vero E poi queste bustine un po' potteriane Un po' alla Harry Potter Sono veramente deliziosissime Sono più di 10 Adesso le conto 12 Sono 12 per la precisione E sono veramente bellissime Anche proprio in vista del Natale Perché si possono abbinare al pacchetto regalo Con un bigliettino di auguri all'interno Anche la collania della Chiappasogni mi piace tantissimo Quindi è molto probabile che me la vedrete spesso nei prossimi video Quindi complessivamente sito super promosso E adesso c'è la sorpresa per voi Perché se fate un ordine su nijoli.fr Con il codice AAKL10 Che comunque vi lascio qui sotto nell'info box Riceverete uno sconto del 10% sul totale dell'ordine Non conta che cosa scegliate Nel senso che io ho fatto un ordine Quasi interamente di cancelleria Ma voi potete anche acquistare trucchi Bisiotteria Cose per la nail art Comunque sul totale dell'ordine Riceverete uno sconto del 10% Quindi io spero di avervi dato qualche spunto Vi consiglio caldamente di fare un giro su nijoli Perché i prezzi sono veramente concorrenziali Ed è una cosa veramente Si passa da una pucciosità all'altra Quindi fatemi sapere se approfitterete di questo codice sconto Per adesso un bacione enorme E vi do appuntamento al prossimo video Ciao